E' uno dei simboli del nostro paese, stiamo parlando della senatrice a vita, Liliana Segre, nel dialogo con la direttrice del Tg1, Monica Maggioni, l'importanza della tenacia e dell'impegno, ieri come oggi, affinché con la marcia della vita a prevalere sia l'amore e non l'odio. Sentiamo. Senatrice Segre, si chiude un anno difficile, un anno che è stato di nuovo segnato dalla pandemia e da tanta tensione. Lei che giudizio ha dell'anno che si chiude? La pandemia, sopra ogni altra cosa, l'egoismo di chi decide di non occuparsi degli altri, occupandosi solo di se stesso. L'indifferenza contro la quale io combatto da quando ero adolescente, e che si ripresenta puntuale, non cambia mai. E' anche qualche cosa di buono, per esempio l'atteggiamento che sembrava chiusissimo da parte dell'Europa nei confronti dell'Italia. E invece quest'anno c'è stata delle decisioni a favore dei paesi che ne avevano bisogno, che non può lasciare indifferenti. Il conforto di questo è invece l'angoscia rispetto al fatto che i messaggi negativi, i messaggi di odio, anche quest'anno sembrava ricercassero gli stessi simboli di sempre. A volte ci sono degli atteggiamenti, appunto quelli di odio, che colpiscono come una specie di cosa mai finita, di cosa che non finirà mai. Io purtroppo ho visto come dalle parole dell'odio sia un attimo passare ai fatti. Lei ha molto messo l'attenzione sul non lasciar vincere chi aveva voluto distruggere. Era un impulso naturale alla vita, per cui, certo, ho capito tante cose ripensando alla mia incapacità di capire perché venivo idealmente mandata a morte tutti i giorni, solo per la colpa d'essere nata, non per chi avessi fatto qualche cosa. Però ho visto chi ce l'ha messa tutta, chi ce l'ha cercato in tutti i modi di sforzarsi di vincere la stanchezza, di vincere le piaghe nei piedi, di vincere quello che c'era intorno, quella indifferenza di quando passavano queste file di persone disgraziate. La gamba davanti all'altra, devo vincere la marcia della morte. E questo è un po' un ripetersi in fondo, perché le difficoltà ce le abbiamo tutte e tutti i giorni, non è che deve essere sempre l'estremo della marcia della morte. Deve essere la marcia della vita. Una gamba davanti all'altra. E allora incontri non solo gli odiatori, non incontri solo gli assassini, non incontri solo i cattivi, ma impari anche a guardare un bambino, a guardare un fiore, a voler rivedere il mare. E questo ti dà la forza di diventare una donna e di essere capace di amare. E' stato l'anno d'oro. E' stato l'anno d'oro.